bene allora integro un po' con la cosa che dicevo nel video precedente allora praticamente avevo già fatto un video dove vi parlavo un po' dei racconti di Mamma Oka soprattutto del simbolismo che ci sta dietro che questi diciamo sono i racconti che vengono raccontati con più frequenza che comunque tutti conoscono quindi Cappuccetto Rosso, Barba Blu, Bella Adormentata nel Bosco Il Gatto con gli Stivali, Cenerentola, Pollicino, Pelle d'Asino è un po' il ciclo diciamo più famoso esistono poi le adesso ve le faccio vedere un attimo di le spostare i libri esistono poi ovviamente le fiabbe dei fratelli Grimm che sono già anche queste vengono raccontate però sono già forse un pochino meno raccontate ai bambini perlomeno magari se vengono raccontate ai bambini vengono raccontate in maniera magari diciamo non proprio integrale sono già meno sono già meno citate in realtà sono molto più citate le fiabbe del ciclo di Mamma Oca ecco tenete presente anche che mi piacerebbe fare anche ovviamente un'analisi simbolica leggendovi però un altro libro perché in realtà ho qui un altro libro che ovviamente spiega praticamente tutto il discorso da un punto di vista psicoanalitico però ovviamente devo un attimo gestire bene la cosa perché suddividerlo perché ovviamente non è possibile farlo tutto così in maniera continuativa perché altrimenti verrebbe appunto non bastano dieci ore cioè per sviscerare praticamente tutto il simbolismo che ci sta dietro quindi magari lo farò appunto un po' diciamo a spezzoni tra l'altro questo è un libro che mi è stato regalato da una persona che ho voluto praticamente regalarmi questa bella edizione veramente gradita e vi faccio poi vedere gli altri libri che volevo farvi vedere allora questo mi pare che forse ve l'avevo già fatto no vi avevo fatto vedere l'altro in realtà allora ho anche questo anche questo è un libro che ho salvato dal macero quando l'ho visto lì non ho avuto il cuore di diciamo di pensare che questo libro dovesse essere destinato alla spazzatura perché banalmente il suo destino sarebbe stato quello ecco anzi tragicamente il suo destino sarebbe stato quello quindi me lo sono presa per me e praticamente come vedete anche questo è splendidamente illustrato e anche qui in realtà vengono riportate delle fiabbe che tutti abbiamo in mente appunto può essere la bella addormentata però sono state riportate anche delle fiabbe meno famose e che poi effettivamente sono anche sarebbero anche un po' diciamo un po' forse troppo cruente anche per i bambini perché per quanto comunque siano raccontate in maniera per bambini ovviamente cioè quindi non è che ci trovate cose esplicite però effettivamente per quanto riguarda alcune di queste di queste fiabe dove ad esempio per dire compare il diavolo magari ecco più che non per i bambini ecco magari un bambino potrebbe anche spaventarsi quindi ovviamente vanno sempre preso per quello che sono cioè non per cose che originariamente nascevano per bambini cioè ad esempio questo per dire un'allusione a Caronte vedete questa è una fiaba dove appunto compare il mito compaiono diversi simboli legati comunque agli inferi era la fiaba della ricerca ve lo dico subito della ricerca dei tre capelli d'oro del diavolo quindi per dire già questa è una fiaba che effettivamente magari raccontata per un bambino potrebbe proprio perché in realtà non sono pensate per i bambini è quello il punto cioè sono sono storie simboliche che non non sono pensate per i bambini vedete già qui comunque il simbolismo di Caronte cioè proprio non hanno un origine per bambini queste cose anche se vabbè vengono abitualmente pensate per bambini però i simboli non hanno niente a che vedere con un discorso di bambini quindi effettivamente alcuni ad esempio per dire anche qui la guardiana delle ocche che si conclude proprio comunque anche se ovviamente è ovvio che non non vengono diciamo saliti in maniera splatter però per dire la fine che fa l'antagonista poi della principessa che della principessa protagonista della guardiana delle ocche non fa una bella fine anzi fa una fine totalmente diciamo splatter adesso non ve lo dico per non rovinarvi il piacere della lettura nel caso voleste approfondire però appunto sono dei simbolismi particolari che non per quanto questo libro sia pensato per bambini però ovviamente per chi conosce bene le mitologie il simbolismo che ci sta dietro sa benissimo che non sono cose per bambini va bene allora questo era giusto un po' per farvi vedere qualcosina come vedete veramente splendidamente illustrati comunque anche di questo se volete qualcosina in particolare ve lo metto a disposizione anzi stavo quasi pensando tra l'altro di fare proprio un video diciamo di fare un video celebrativo di tutte queste fiabbe che vi ho fatto vedere quindi mettere proprio non so se farlo praticamente tutto insieme ma probabilmente no perché altrimenti verrà già lungo magari lo suddivido fiaba per fiaba di mettere appunto le immagini più belle almeno così le condivido proprio con le persone allora sperando che adesso non cada giù perché sono libri diciamo di ampio diciamo di ampio volume vi faccio vedere la serie di libri anzi prima vi faccio vedere quest'altro anche questo è un libro che ho salvato dal macero cioè io l'idea di pensare appunto che dei libri del genere finivano nella spazzatura cioè per uno che ama i libri è qualcosa veramente di inconcepibile però troppo è anzi per fortuna poi sono riuscita a salvarne in gran parte io e quelle pochissime tre persone che mi hanno aiutato perché qui si vantano tutti di essere dei laureati di avere milioni di lauree però ripeto io di persone di questi pluri laureati che io ho la laurea di qui ho la laurea di là che effettivamente mi abbiano aiutato a salvare centinaia di libri dal macero io non li ho visti quindi sono stata praticamente aiutata da persone che come me in pratica o quasi quindi vabbè piccolo inciso quindi anche questo veramente molto bello e come ho detto sto appunto pensando in realtà di fare poi un video diciamo celebrativo con le immagini più belle prese da questo libro e da quell'altro che vi ho fatto vedere prima e anche da altri libri che ho qui che ho diciamo che ho già avevo già tirato giù le immagini adesso concludo facendovi vedere un po' questa serie di libretti questi li ho trovati al giro libri allora Grimm ve li ho già fatti vedere prima praticamente è tutta una serie di libretti non è la serie completa in realtà però quelli che erano lì disponibili li ho presi sulle fiabe del folklore questo qui per quanto riguarda l'Italia che non è neanche esaustivo perché in realtà vi avevo già fatto vedere l'altro per quanto riguarda le leggende del folklore italiano che è questo qui quindi questo qua non è neanche esaustivo in realtà sono semplicemente delle fiabe delle novelle raccolte da Guido Gozzano però non è esaustivo di tutto il nostro patrimonio favolistico questo fiabe rosse anche queste qui sono molto belle e si trovano anche dei cartoni animati non di tutte però per dire di quella famosa ad esempio di Baba Yaga Vassilissa la Bella o anche per dire dei cigni effettivamente potreste trovare dei cartoni che poi sono stati caricati su Youtube queste le fiabe francesi quindi sì le fiabe i racconti delle fate il nano giallo la principessa Rosetta la Bella e la Bestia che è quella diciamo famosa anche molto diciamo è stata anche molto criticata in realtà come negli ultimi tempi diciamo che la critica femminista molto spesso ha fatto un po' queste critiche comunque troppo radicali per quanto riguarda questo genere di fiabe di favole perché è vero che comunque noi in alcune fiabe e favole troviamo comunque degli stereotipi che oggigiorno giudichiamo sessisti però l'errore di fondo è prendere queste fiabe e queste favole come se fossero diciamo una narrazione reale sulla realtà quando in realtà non è così perché sono proprio cose simboliche allegoriche che peraltro non hanno a che vedere con questo discorso di maschi e femmine cioè la rilettura la rilettura di queste fiabe favole sul discorso degli stereotipi di genere è comunque un banalizzare tutto il simbolismo che ci sta dietro che è un simbolismo che non è discorso maschi e femmine così come poi magari può essere stato frainteso da queste analisi diciamo femministe che ti dicono che il principe che bacia la principessa senza il suo consenso cioè ma quella è una banalizzazione di di questo patrimonio narrativo che in realtà non era pensato per i bambini e non è neanche pensato diciamo con l'intento di veicolare questa serie di diciamo di stereotipi che oggi giorno ovviamente consideriamo anacronistici sessisti ma aveva a che fare con un discorso di analisi di cose simboliche quindi per dire non tanto cose legate alla differenza sessuale dei corpi maschi femmine ma a un discorso ad esempio di anima ad esempio anche di conoscenza di per dire Pinocchio per dire non è una storia per bambini Pinocchio in realtà ha un simbolismo cioè dietro alla storiella bella del burattino che alla fine diventa bambino ha un simbolismo di tipo gnostico massonico quindi chi prende queste storie queste favole queste fiabe alla lettera si ferma solo a quel contesto lì alla prima lettura che ovviamente viene fatta per bambini è qualcuno che non è andato mai ad approfondire tutto il mondo simbolico allegorico anche esoterico che ci sta dietro quindi le analisi diciamo femministe di cose come possono essere per dire Biancaneve piuttosto che Cappuccetto Rosso Barba Blu non sono molto cioè non le trovo molto diciamo molto sensati proprio perché il loro errore di fatto è quello di fermarsi alla superficie della prima impressione diciamo letterale ma queste cose non vanno prese così hanno un significato allegorico dietro anzi un significato molto complesso di fatti poi se ci sarà occasione ve lo farò anche vi farò vedere anche una recensione a un altro libro che ho qui dove appunto si analizzano praticamente tutti gli archetipi tutte le cose legate a queste mitologie ancestrali per dire il viaggio negli inferi ve l'ho fatto vedere prima per dire quella fiaba lì che viene raccontata per bambini dei tre capelli d'oro del diavolo è tutto un discorso allegorico sul sul viaggio dell'anima nel mondo degli inferi quindi non vanno ovviamente presi con le analisi femministe che ti dicono che veicolano stereotipi sessisti sulle principesse perché in realtà non sono neanche reali principesse e principi capite cioè sono allegorie ovviamente della nostra anima della nostra mente anima animus quindi cioè prenderle in maniera letterale come fanno appunto delle persone che non vanno oltre la superficie banale della prima impressione è non aver capito appunto di che genere di di storie trattasi quindi anche i miti i miti pagani sono sempre qualcosa che rimanda ad altro cioè che rimanda ad una verità molto più spirituale quindi quando si fanno analisi su queste cose io lo dico sempre bisogna farle a ragion veduta in maniera ponderata cioè non dire quattro banalità tipo il principe che bacia la principessa non gli ha chiesto il consenso sì ma lì non è un qualcosa che serviva a educare i rapporti tra uomo e donna capite cioè è qualcosa che va preso in senso allegorico che rimanda ad altro rimanda appunto a delle verità sapienziali quindi appunto il discorso chiamiamolo anche gnostico di ricerca della vera conoscenza quindi non le banalità e gli slogan quelle cose lì sono cose che vanno benissimo per le persone che non usano il cervello con i risultati che poi si vedono perché appunto quando una persona non usa il cervello quando una persona non pensa non ragiona sulle cose poi i risultati si vedono si vedono appunto questa è proprio la società noi purtroppo viviamo in un periodo storico della società delle persone che non non usano il cervello cioè ce l'hanno trofizzato non c'è niente da fare vabbè tanto tanto l'andazzo è che non avremo neanche più bisogno di un cervello perché tanto poi ci pensa all'intelligenza artificiale perché poi io ho già letto cose del genere cioè io ho già letto gente entusiasta di roba tipo ci penserà all'intelligenza artificiale a fare tutto e vabbè scusate la disgressione ma io quando leggo persone realmente entusiaste di avere il cervello atrofizzato perché tanto ci penserà all'intelligenza artificiale a pensare al posto tuo cioè io come devo commentare una cosa del genere vabbè allora niente questo era giusto per farvi vedere qualcosina ecco per farvi vedere un po' che il mondo delle fiabbe delle favole è bello vasto e ovviamente poi si collega a tanti significati simbolici allegorici quindi suggerisco appunto di dedicarsi a scoprire a riscoprire proprio ma da adulti perché queste cose ovviamente noi le conosciamo fin da bambini però da bambino tu non hai gli strumenti diciamo culturali per capire che trattasi appunto di allegorie di messaggi anche diciamo esoterici quindi ovviamente il bambino non può avere questi strumenti per conoscere queste cose ce li hai ovviamente quando hai molti più anni hai anche un bel bagaglio di conoscenze mitologiche che appunto riesci a capire i significati nascosti va bene allora di tutta questa serie qui per il momento ho letto solo questo questo di Guido delle fiabe di Guido Gozzano che ovviamente lui ha scritto ha composto lui o comunque ha preso ovviamente spunto anche da altre fiabe del folklore italiano la migliore il suo capolavoro è Nevina e Fior d'Aprile che vi consiglio di leggere probabilmente la troverete caricata da qualche parte altrimenti comunque cercatela perché tra tutte le fiabe raccolte da Guido Gozzano questa è la è la migliore ma è proprio universalmente riconosciuta come capolavoro non tanto per la storia in sé anche se lì in realtà il tema ha a che vedere con figure legate proprio alle divinità delle stagioni non tanto comunque per la trama in sé ma per come è stata scritta cioè per lo stile proprio narrativo con cui poi Gozzano l'ha narrata altre altre fiabe raccolte che comunque trovate adesso io non so non credo che questo libro così com'è sia in biblioteca nel senso voi semplicemente andate in una biblioteca e chiedete le fiabe novelline scritte da Guido Gozzano vi troveranno comunque un altro libro di un'altra edizione questo credo che dovreste riuscire a trovarlo comunque cercatelo anche magari su internet la diciamo la raccolta vi dico propri titoli ritretta degli smani la danza degli ignomi nevina e fior d'aprile che è assolutamente consigliato come lettura la fiaccola dei desideri la lepre d'argento la camicia della trisavola piuma d'oro e piombo fino il re porcaro la cavallina del necromante il re uccio gamberino non so e la leggenda dei sei compagni e ovviamente queste fiabe queste fiabe comunque riecheggiano sempre degli stessi simboli delle stesse allegorie che sono presenti anche in altre fiabe quindi ma proprio perché in realtà sono anche del folklore russo proprio perché in realtà i simboli sono intescambiabili nei vari nelle varie leggende nelle varie nei vari pantheon e nelle varie culture va bene allora sulle fiabe russe in realtà sotto poi vi metto quella che ho trattato su Baba Yaga anche lì Baba Yaga la storia la fiaba di Baba Yaga in realtà dietro alla storiella così che si racconta per i bambini in realtà ovviamente anche lì il pantheon il significato vero era quello del pantheon russo pre cristiano quindi la Baba Yaga è semplicemente la che è la strega russa è semplicemente ovviamente quello che era rimasto della dea madre della dea madre nella sua forma terrifica cioè la diacrone la forma terrifica della dea madre anche lì ad esempio quando vi vedete che nelle fiabe compare la strega pensate alla strega di Biancaneve quella non va presa letteralmente come una donna letterale quindi poi allora le femministe ti dicono però è simbolo del fatto che è la misoginia contro le donne perché non si si intende quello si intende il discorso della dea madre della dea madre terrifica nei suoi aspetti tremendi nei suoi aspetti portatori di morte quindi per dire vedere la fiaba di Biancaneve come se fosse la fiaba misogina che scredita le donne ma quello lì è fermarsi a una prima lettura e non aver capito niente cioè non avere comunque le competenze legate per dire alla mitologia lo studio della storia delle religioni e vi dicendo che ti fanno intuire ti fanno vedere che dietro quella storia dietro quei simboli ci sta altro per dire gli stessi i stessi frutti magici che compaiono che poi come sapete compare anche la stessa idea del frutto apportatore di conoscenza del bene e del male compare anche nella Bibbia quindi anche la Bibbia in realtà per dire Genesi non va presa la lettera come la prendono gli integralisti cristiani che credono letteralmente che la donna sia stata formata da una costola cioè anche la stessa Genesi in realtà gli stessi testi biblici in realtà sono allegorici cioè andrebbero letti col simbolismo dello stesso alfabeto ebraico in realtà che ovviamente i testi ebraici cosiddetti sacri sono stati scritti in un certo tipo di modo comunque con un certo tipo di parole che rimandavano ad altro con l'analisi anche cabalistica che c'è stata che viene fatta quindi fermarsi come ad esempio fanno per dire i fanatici religiosi i cristiani integralisti che prendono il testo biblico della Genesi lo prendono alla lettera e letteralmente sono convinti che la donna sia stata formata dalla costola e cioè lì è non aver capito niente non aver capito la vera allegoria che si cela dietro il simbolo della costola piuttosto che della mela ecco del frutto certo che ovviamente analisi del genere le possono fare persone che ovviamente leggono tanti libri una persona che non legge niente si fa bastare i soliti quattro slogan è ovvio che a queste cose non ci arriva purtroppo per lei anche se gliele spieghi diecimila volte non ci arriverà però le cose stanno così quindi appunto prima di scrivere quattro banalità bisogna un attimo avere le competenze diciamo bibliografiche per poter esprimere delle osservazioni su queste cose per avere le competenze bibliografiche bisogna leggere cioè non c'è un altro modo per non c'è un altro modo per farsi una cultura sulle cose con buona pace di chi già esulta perché non useremo più il cervello perché ci penserà l'intelligenza artificiale a farlo per noi no grazie io andrò avanti a usare il mio cervello con buona pace di chi di chi vuole impormi le intelligenze artificiali va bene allora se l'argomento vi interessa lo riprenderò comunque sappiate che io queste cose le ho già fatte uscire per iscritto sotto vi metto tutti dei link che voi potete cliccate sopra e vi rimanda a degli iscritti che ho fatto uscire anni fa che ho già caricato sul mio blog dove appunto poi troverete tutte le analisi a queste fiabe e anche ad altre diciamo cose che ho scritto proprio legati al mondo delle analisi dal punto di vista di archetipi proprio di questo genere di fiabe di personaggi delle fiabe quindi se siete interessati poi cliccate sotto e poi trovate trovate tutto perché ho fatto uscire abbastanza ecco anche da un punto di vista di leggende per dire ho fatto uscire anche delle versioni alternative di barba blu molto interessanti quindi come al solito chi vuole approfondire già troverà tutto quanto trascritto dalla sottoscritta ok allora direi di concludere qui spero che il video sia stato interessante fatemi un po' sapere cosa ne pensate se avete intenzioni di rileggerle queste ecco di rileggerle ovviamente da adulti quindi non credere che appunto siano cose per bambini perché non sono cose per bambini quello è il punto fatemi un po' sapere se avete intenzione di rileggerle o ad esempio qual è la vostra fiaba preferita o quella che magari non vi piace se magari la rileggerete con altre chiavi di lettura perché è un argomento che mi piace molto quindi approfondisco sempre volentieri va bene ringrazio le persone che hanno ascoltato il video spero che sia stato utile e interessante vi saluto alla prossima analisi